domato l'incendio alle cesane in fiamme anche un campo a semigallia nuovi atti vandalici agli stabilimenti balneari di viale nazario sauro covid tra i 45 ricoverati marchigiani 34 non sono vaccinati inaugurata in baia flamilia la nuova caletta per la riabilitazione delle tartarughe una calorosa buona serata e un ben ritrovati sul canale 633 con il tradizionale appuntamento serale dell'informazione con rossini news in apertura parliamo degli aggiornamenti relativi all'incendio delle cesane di fossombrone per il quale i vigili del fuoco hanno predisposto oggi gli ultimi interventi di bonifica e del vasto rogo che ha avuto origine ieri sera a senigallia vicino alla zona dell'ospediale sentiamo tutto in questo primo servizio sono proseguite per tutta la notte le operazioni di bonifica del territorio alle cesane di fossombrone dove nella notte di ferragosto era scoppiato un incendio che aveva richiesto il pronto intervento di diversi mezzi tra cui un elicottero per spegnere le fiamme quattro le squadre dei vigili del fuoco intervenute per placare il rogo insieme ai carabinieri forestali e alla protezione civile le fiamme erano state spente già nella giornata di ieri ma i vigili del fuoco insieme alla protezione civile hanno monitorato la situazione anche durante la notte a causa della presenza di forte vento e per evitare nuovi focolai il bilancio finale delle operazioni segnala che le fiamme hanno complessivamente distrutto un ettaro di bosco e vegetazione nella serata di ieri invece intorno alle 20 un altro incendio di importanti dimensioni si è verificato a senigallia più precisamente in viacellini vicino allo svincolo della complanare le fiamme hanno avuto origine in un campo che costeggia la strada e a causa del forte vento le colonne di fumo generate dalla vegetazione andata a fuoco sono state ben visibili da più punti della città tre le squadre di vigili del fuoco di senigalli arcevi ancona che sono intervenute sul posto e che nella tarda serata sono riuscite a domare il rogo la strada è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni di spegnimento e di bonifica del terreno mentre i residenti della zona è stato chiesto di tenere chiuse sia porte che finestre fortunatamente non si sono registrate persone ferite ancora ignote invece le cause che hanno generato le fiamme parliamo ancora di cronaca perché è stato denunciato dai carabinieri il giovane che qualche giorno fa cattolica si era introdotto all'interno della chiesa di san pio quinto e aveva raggiunto l'altare a bordo del suo scooter il video e le immagini realizzate dallo stesso conducente hanno fatto il giro del web attraverso la visione di ore di filmati raccolti dagli impianti di videosorveglianza della zona i militari sono risaliti al numero di targa del ciclomotore e successivamente al giovane che ora dovrà rispondere dei reati di offese ad una confessione religiosa turbamento di funzioni religiose e danneggiamento nel corso delle indagini seguendo gli spostamenti del diciottenne gli uomini dell'arma hanno accertato che qualche giorno prima sempre in sella al suo motorino il ragazzo aveva provato ad effettuare la stessa scena presso la chiesa di santa maria del mare a gabice mare in quell'occasione però il ragazzo aveva trovato chiuso la porta d'accesso al luogo di culto e aveva deciso di utilizzare il ciclomotore come ariete per sfondare la porta ed entrare al diciottenne sono stati sequestrati gli abiti che indossava durante la male fatta ed il telefono cellulare da cui aveva postato i video sui canali youtube e instagram la posizione del ragazzo è al vaglio della procura della repubblica di pesaro e sono tornati a ripetersi nel fine settimana di agosto diversi atti vandaligi negli stabilimenti balneari di viale nazario sauro episodi non nuovi e già denunciati come ci racconta nel prossimo servizio il gestore della spiaggia che in questo fine settimana ha riscontrato più danni vediamo sono tornati a verificarsi durante il weekend di ferragosto nella zona del lungomare di levante diversi atti vandalici ai danni degli stabilimenti balneari dell'area disagi con cui i gestori e i titolari delle spiagge di viale nazario sauro fanno i conti ormai da diverse stagioni e che nell'estate del 2021 sono tornati a ripresentarsi con gli episodi di maggior gravità proprio a cavallo di quest'ultimo fine settimana a registrare i danni più ingenti è stato lo stabilimento numero 27 dove sono state divelte diverse porte delle cabine come racconta il titolare claudio casoli nella notte dal di ferragosto da 14 e 15 mi ha chiamato la vigilanza e sono state rotte cinque porte delle cabine abbiamo già individuato i colpevoli perché noi abbiamo la telecamera e andremo a fare la denuncia ai carabinieri perché comunque sono stati chiamati dalla vigilanza abbiamo già provveduto a risistemare il danno perché avevamo di ricambio delle porte però così purtroppo non si può andare avanti danni economici quantificati ma è intorno ai mille mille cinquecento euro il principale appello dei gestori balneari oltre ad un'implementazione dei controlli rimane quello di poter vietare l'accesso alle spiagge durante la notte proposta già formulata durante un incontro con l'amministrazione qualche settimana fa e che gli stessi gestori torneranno a chiedere formalmente al termine della stagione sperando che questa rappresenti un'alternativa valida a ridurre episodi come quelli già registrati l'anno scorso non tanto le cabine ma gli ombrelloni e quest'anno hanno voluto cambiare cambiare oggetti però non ce la facciamo più noi chiediamo al al comune o a chi di dovere di poter chiudere gli stabilimenti a una certa ora e perché se no così noi non riusciamo ad andare avanti noi da da qui fino a bagni a bagni mare vivo abbiamo il ragazzo della vigilanza privata che il sabato e il venerdì e il sabato viene rafforzato con dei piantoni nei punti strategici però purtroppo anche questo non non riusciamo a gestire non serve servirebbe più chiudere le spiagge come dicevo prima chiudere le spiagge e vedere un po la situazione dei 45 pazienti ricoverati nelle marche per il covid 19 34 non sono vaccinati 7 hanno ricevuto una sola dose mentre 4 hanno completato l'intero ciclo di vaccinazione sono alcuni dati forniti dalla regione in merito a contagi e ricoveri delle persone vaccinate e di quelle non sul territorio regionale li sentiamo nel prossimo servizio insieme al bollettino dei nuovi casi quotidiani a fronte dei 2.199 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 101 i nuovi casi di covid 19 segnalati sul territorio regionale di questi 12 sono stati riscontrati nella provincia di pesaro urbino salgono di due unità invece i ricoveri sono infatti 47 i pazienti positivi e ricoverati nelle strutture ospedaliere marchigiane l'ospedale pesarese ha visto un incremento di tre unità per un totale di 15 persone attualmente ricoverate 8 nei reparti ordinari 3 in quelli semi intensivi e 4 in terapia intensiva il bollettino quotidiano emesso dal servizio sanità della regione come accade ormai da diverse giornate non ha notificato nuovi decessi legati al covid sempre la regione ha poi comunicato i dati relativi a ricoveri e contagi registrati nelle marche durante la scorsa settimana dal 9 al 15 agosto analizzando i numeri dei soggetti vaccinati e non che hanno contratto il virus e per cui è stata necessaria l'ospedalizzazione dei 45 pazienti presenti nelle strutture marchigiane 34 non si erano sottoposti alla profilassi 7 avevano ricevuto la prima dose e 4 invece avevano completato entrambe le somministrazioni sul fronte contagi dei 1152 casi registrati la scorsa settimana 954 non avevano aderito alla campagna vaccinale 184 invece le persone positive che avevano ricevuto la prima dose mentre l'1,2 per cento dei casi e quindi 14 persone avevano completato l'intero ciclo vaccinale stanno per concludersi lungo la provinciale 111 Tarugo nel comune di Pergola i lavori di sistemazione di due movimenti franosi che da tempo limitano la circolazione stradale i lavori che rispondono alle esigenze degli abitanti e delle attività ricettive della zona sono stati finanziati dalla provincia di pesaro e urbino nell'ambito degli interventi per garantire la manutenzione della viabilità su tutto il territorio provinciale il festival del giornalismo culturale non si ferma neanche nel 2021 e in occasione dell'anno dantesco protagonista della nuova edizione sarà proprio la difesa della lingua italiana a partire dal lavoro di dante alighieri il festival curato dall'istituto per la formazione al giornalismo di urbino e dalla università degli studi carlo bo si articolerà in tre giornate da venerdì 8 a domenica 10 ottobre le attività si svolgeranno ad urbino nelle sale del palazzo ducale obbligatorio per la partecipazione il possesso del green pass e per riservare un posto è possibile visitare il sito www festival giornalismo culturale punto it parliamo ancora di urbino perché andato in scena ieri in piazza rinascimento lo spettacolo il soffio della nuova vita del gruppo musicale oasi che si è esibito in performance musicali e poetiche nelle esecuzioni di brani e colonna sonore la voce di roberta arduini è stata accompagnata da diversi strumenti tra cui violino violoncello e pianoforta e a gabice mare i mercoledì di agosto in piazza matteotti saranno dedicati ai bambini con una mini rassegna di serate di intrattenimento e letture curate dalla cooperativa il maestrale mercoledì 18 agosto sarà in scena nonno bolla con le sue magiche bolle lo spettacolo inizia alle ore 21 i posti saranno limitati e disponibili fino ad esaurimento dai 12 anni l'accesso sarà consentito solo se provvisti di green pass è stata inaugurata ieri a baia flaminia la caletta per la riabilitazione delle tartarughe marine ve la raccontiamo nel prossimo servizio è stata inaugurata in baia flaminia nel tratto di ritorale protetto dalle prime falesie del parco san bartolo la caletta per la riabilitazione delle tartarughe marine uno spazio nel quale gli esemplari in via di guarigione possono esercitarsi prima del ritorno definitivo in mare aperto il progetto come hanno ricordato il vice sindaco di pesaro daniele vimini e l'assessore alla sostenibilità ai dimorotti si inserisce all'interno del percorso di salvaguardia dell'habitat marino avviato due stati fa dal comune di pesaro in collaborazione con la fondazione cetacea la capitaneria di porto e l'ente parco san bartolo due anni fa con la schiusa delle uova le posizioni che avvengono in questi giorni le schiusi di ottobre avevamo capito che sarebbe stato non solo un evento eccezionale unico ancora non ripetuto di una schiusa così a nord diventato un caso di studio a livello mondiale ma non si è fermato il messaggio la forza che quell'evento ha generato nell'entusiasmo dei volontari che si sono uniti già da quelle settimane alla fondazione cetacea che assieme alla fondazione stessa hanno realizzato delle opere straordinarie negli ultimi negli ultimi l'anno scorso una prima vasca sperimentale per il rilattamento delle tartarughe all'acqua dopo le cure ricevute dalla fondazione prioritariamente a riccione e quest'anno una oasi di rilattamento di rilascio all'acqua in acqua delle tartarughe stabile permanente che permette per tutta la stagione calda da maggio a settembre di fare pratiche di rilattamento al mare preziosissime importantissime per la riabilitazione di questi animali curati dalle vicende più varie dai colpi di freddo alle botte di elica a tutti gli elementi che le rendono fragili e inadatte senza cura ritornare alla vita selvaggia e qui è possibile compiere questo miracolo con progressi di riabilitazione veramente importanti l'area dedicata alla riabilitazione delle tartarughe di baia flaminia ospita da due settimane carolina un esemplare di caretta caretta che data la sua cecità necessita di un percorso di monitoraggio composto da tecniche e tempistiche particolari proprio per questo la fondazione cetacea ha lanciato un appello per reclutare volontari che possano dare la propria disponibilità di tempo per permettere alla tartaruga di continuare ad esercitarsi e ritornare poi in libertà in mare aperto una volta raggiunta l'indipendenza continua la collaborazione con la città di pesero cominciata in modo improvviso nel 2019 con il nido di luciana e abbiamo scoperto questa caletta e abbiamo scoperto che qui possiamo lavorare e fare delle cose per la riabilitazione degli animali e l'anno scorso ne abbiamo riabilitate due faustine alessandra che avevano problemi neurologici quest'anno abbiamo tenta stiamo tentando un una cosa quasi impossibile cioè di riabilitare una tartarucca cieca cioè poter verificare se stando qua in semi libertà se caccia se si muove bene se si fa una vita normale se questo lo verificheremo per un paio di mesi probabilmente potrà tornare in mare anche se è cieca le capitanerie di porto sono coinvolte nella tutela del mare non solo da un punto di vista ambientale ma anche delle sue risorse in questa parte del territorio abbiamo una forte collaborazione con la fondazione cetacei di rimini a cui ci rivolgiamo e ci siamo rivolti anche in passato in caso di rinvenimento e ritrovamento di cetacei o in questo caso di tartarughe e hanno accompagnato diciamo che ci siamo accompagnati noi loro e loro a noi in questo percorso di recupero riabilitazione e rilascio poi anche delle tartarughe a mare quello del rilascio è un momento particolarmente emozionante per tutti si inaugura sabato 21 agosto land art of furlo 2021 rassegna d'arte all'aperto che quest'anno giunge alla sua dodicesima edizione a raccontarci il tema i progetti degli artisti e le novità di quest'anno nella prossima intervista è andreina de tomassi co fondatrice della casa degli artisti di sant'anna del furlo dal 21 agosto si comincia e abbiamo la passeggiata d'arte sul sul sui camminamenti sono come dei tappeti volanti che sono stati storiati mosaicati dagli artisti poi abbiamo chiesto di costruire tre fontane una più bella dell'altra vedrete e poi una novità credo anche addirittura per le marche non soltanto per la provincia di pesaro urbino è la fiber art ovvero l'arte tessile l'arte tessile avremo nella galleria elettra almeno 12 artiste perché questo è un vero e proprio linguaggio artistico di arte contemporanea questa fiber art che sta andando moltissimo e ci sono musei corsi brera già aperto un corso e noi nelle marche insomma abbiamo anche qualcosa da raccontare tra i telai la canapa e il tombolo abbiamo veramente una bella tradizione che può diventare trasformarsi in arte l'importanza intanto che presentiamo in anteprima nazionale un libro sui matti romantici di andrea baffoni e quindi sono molto contenta di aver raggiunto questa questa meta di averlo rubato ad altri e quindi presentiamo questo libro abbiamo molte presentazioni di libri quest'anno anche le streghe poi ci sono i sibillini poi ci sarà una performance di una fotografa pugliese insieme a una vocalist tra musica fotografia le presentazioni di libri e poi c'è elvio muretti che è il nostro vicepresidente che ci parlerà nell'arte degli arazzi tappeti tutte le tutte le grandi manifestazioni artistiche ci sono state col filo protagonista di base quindi rimangono gli artisti gli artisti del furo del nostro territorio esatto sono 40 presenze quest'anno vengono anche da londra dalla svezia dalla spagna e siamo felici abbiamo tra l'altro nella fiber art due artiste marchigiane bravissime una è anna maria atturo e l'altra è la faggi e sono tutte e due stanno crescendo moltissimo e penso che le sentirete parlare gentili telespettatrici e telespettatori è tutto per questa sera vi annuncio la prima serata in compagnia di rossini tv alle 21 e 15 stelvio on limiti del ritorno con l'ospite in studio di zico pieri intervenuto nei nostri studi per raccontarci la sua mitica impresa nella scalata del passo dello stelvio in bicicletta non mi resta che salutarvi darvi appuntamento domani mattina alle ore 7 20 con l'informazione con buongiorno rossini e augurarvi una felice serata in compagnia dei nostri programmi